Oggi la Chiesa Cattolica festeggia la Domenica delle Palme a Chieti. L'Arcivescovo Bruno Forte ha benedetto le palme in Piazza Trento e Trieste, nell'area antistante la Chiesa della Santissima Trinità. Poi il piccolo corteo ha attraversato il Corso Maruccino e il Presule ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa di San Domenico. Stiamo vedendo le immagini realizzate da Alberto Capo e che vi sta mostrando dalla regia Roberto Cherchi perché la celebrazione è stata seguita in diretta sulla pagina Facebook di Reteotto.